I tavoli sulle pensioni, sulla sicurezza sul lavoro, tutti i tavoli vengono convocati periodicamente. Poi è evidente che nell'ambito di un confronto tra le parti sociali e il governo ci sono delle posizioni che talvolta possono anche non condurre a delle norme che possano piacere a tutti. Di fare delle norme, quindi esercitare un potere legislativo, credo che sia una grandissima responsabilità da parte del governo e del Parlamento che se l'assumono in toto. E certamente farlo ascoltando anche chi è portatore di interessi legittimi è altrettanto necessario. Però poi bisogna anche tener conto, l'abbiamo detto spesso, che le norme devono avere un loro equilibrio che dal punto di vista della finanza pubblica è assolutamente imprescindibile. Se non tenessimo conto di questo fattore, credo che avremmo ben poco da parlare di futuro se non garantissimo il rispetto rigoroso di quelli che sono i controlli che devono essere fatti sul bilancio dello Stato. Quindi non c'è un controllo delle pensioni in vista con lei? Noi siamo disponibilissimi su tutto quanto, sull'intero pacchetto, anche su quello che ovviamente sono gli interventi che poi metteremo in campo per rendere ancora più dinamico il mercato del lavoro. Quindi non c'è assolutamente una preclusione, non potrebbe esserci. Anzi, ben volentieri a breve individueremo anche una serie di impegni. Certamente però ci dobbiamo mettere al tavolo tutti con la volontà di ascoltarci reciprocamente e non partire dal presupposto di dire ancora prima che sia finito l'incontro, che l'incontro non è servito a niente.